Oggi è veramente difficile parlare di un film, perché il nostro è solo un film, ma la tragedia, quella che stanno vivendo in questo momento centinaia, sono migliaia di persone in Francia, è talmente grande che è molto difficile parlare. Il nostro film è nato da un libro di Melania Mazzucco che si chiama Limbo ed è ispirato a una storia vera di una soldatessa che ha subito un attentato in Afghanistan e ritorna in Italia. Limbo si riferisce a questo suo tempo sospeso che vive, cerca di riabilitarsi e con un unico pensiero che è quello di tornare al più presto in Afghanistan. Che succede? Non abbiamo capito, vogliono entrare ma non si fa perquisire, chiedono aiuto ma non capisco per cosa. Ci penso io. A parte la preparazione tecnica che consisteva in un addestramento militare che abbiamo fatto noi attori, che interpretavamo i soldati, non ho fatto nessun'altra preparazione. Io vengo da una famiglia militare, sono letteralmente cresciuta nelle caserme. Mio padre, ma anche mio nonno, mio zio, mia nonna era un soldato. Per me le motivazioni che spingono un uomo o appunto una donna a fare il soldato mi erano ben chiare. È un lavoro come gli altri che comporta dei rischi. E oggi noi viviamo nei tempi cosiddetti di pace, nel senso non c'è la leva. Quindi chi decide di fare il soldato è una scelta ancora più consapevole. Chi va a fare delle missioni di pace nei paesi, tra virgolette, pericolosi, è consapevole di questa cosa. Avvisate la Gigo e chiamate un interprete! Lasciala passare, è pulita. Tu perquisisci il ragazzino. Perfetto. È stato un stretto estremamente divertente. Nonostante il tema del film e nonostante la difficoltà nel girarlo, perché l'abbiamo girato, è la parte dell'Afghanistan a gennaio, gennaio-febbraio. Abbiamo ricreato l'interno della FOB nella base a Cecchignola, qua a Roma. Gli esterni siamo andati a girare in Sardegna, perché era l'unica possibilità, farlo qua avendo la possibilità di usare i veri mezzi militari. C'è da dire che quello che mi ha aiutato, a me e anche gli altri attori, era proprio la possibilità di confrontarsi con i soldati che sono stati nelle missioni. Averli durante l'addestramento, ma anche durante delle riprese con noi. Quello è stato veramente molto utile. Detto ciò, io mi sono divertita come una pazza.